e bella a tutti i poletti miei qui è il vostro yamjano preferito che vi parla oggi siamo in un video che c'è non so come lo prenderete voi però so che per me magari sarà meglio c'è praticamente avevo deciso che da gaccia studio come app per avete presente le mie avventurine gaccia da gaccia studio a gaccia life ora vi faccio vedere come un'immagine di gaccia studio ma lo sapete già eccola qui un'immagine di bozza mentre su gaccia life c'è è anche meglio perché puoi puoi fare più cose con i personaggi puoi muoverli di più puoi ingrandirli poi anche tutti lo usano ecco una grafica di gaccia life eccolo qui forse questa era un po sadica e cioè poi boh non lo so ma cioè magari potreste anche scegliere voi facciamo così partite con nei commenti con hashtag gaccia life per gaccia life e gaccia studio per gaccia studio detto questo ciao